Buongiorno ragazze, eccomi qua con un nuovo vlog Sì, perché praticamente più di una settimana che non registro un vlog Ho fatto dei video svuotaspesa, video pulizie, però il vlog avevo smesso perché come vi avevo detto in un posto in community Sono rimasta praticamente senza connessione per più di una settimana perché la connessione è partita giovedì pomeriggio, giovedì scorso Adesso siamo a sabato 31 luglio e sono le 10.50 e la connessione è tornata solo ieri Ieri mattina, terramattinata E quindi se avevo smesso di fare i vlog ho detto tanto è inutile fare video se poi non ho la possibilità di ricaricarli Quindi mi hanno un po' stoppata Poi ieri è tornata ed eccomi qua Allora vi aggiorno un pochino sulle cose perché appunto non avendo più fatto vlog non vi ho più raccontato cose che sono successe Ci eravamo lasciati che avevo fatto la curva glicemica, vi avevo fatto anche un video a parte Ve lo lascio qua da qualche parte se magari siete curiosi di vederlo Vi ho raccontato un po' come era andata la visita E' andata abbastanza bene A parte un po' di giramenti di testa a causa prelievi però tutto sommato era andata bene però non vi avevo detto come erano andati i risultati perché ancora non li avevo presi Praticamente è successo che i risultati arrivavano al mio medico di base Dopo un giorno Quindi il giorno dopo non potevo andare Sono andata il giorno dopo ancora ma il dottore non c'era Quindi ho dovuto aspettare anche un altro giorno Alla fine ci ho parlato per telefono e mi aveva detto guarda stai tranquilla non c'è niente Quindi vabbè mi ha fatto lasciare i risultati in segreteria Sono andata a prenderli Poi quando vado a vedere i risultati dell'esame viene un asterisco Però era abbastanza tranquilla lui mi ha detto guarda è tutto a posto Cioè questo asterisco ha la glicemia basale perché praticamente ci sono i risultati della glicemia basale Della glicemia dopo un'ora che ho bevuto il famoso bibitone e dopo due ore E quelli erano perfetti C'era giusto un asterisco ma giusto di due punti sopra come doveva essere Adesso di preciso non me le ricordo e non ho qua la cartellina sotto mano Comunque si era roba di poco Ed ero tranquilla Poi succede che vado dal mio ginecologo perché comunque sia ogni mese vado che mi vuole vedere Per fare la visita Gli faccio vedere il foglio con gli esami E mi dice guarda stai tranquilla non hai il diabete gestazionale Perché io sì era abbastanza tranquilla perché mi aveva detto il mio medico di base non era niente Però questo asterisco mi frullava un po' nel cervello E lui mi tranquillizza e mi dice guarda non è che hai il diabete gestazionale Anche perché non hai l'asterisco in tutti i tre i casi L'hai solo in quella della glicemia basale Però per precazione per sicurezza devi fare un controllo con lo stick glicemico Con questo cosiddetto qua Con la macchinetta che ti fai la punturina sul dito Per qualche giorno una settimana vediamo se poi mi mandi i risultati E se tutto è a posto poi smettiamo Quindi io adesso è il quarto giorno che ho iniziato a fare lo stick glicemico Praticamente mi buco il ditino La mattina a digiuno E poi in un'ora dopo pranzo Spero che vada bene fatto così Perché non mi ricordo se ne devo fare due o tre sinceramente Comunque io adesso prendo i risultati anche di oggi e di domani Poi lunedì gli mando i risultati Ma da quello che vedo finora A me sembrano perfetti Poi sentiamo cosa mi dice il ginecologo Poi vabbè a parte questa cosa Mi ha fatto il solito controllo Quindi mi ha pesato Ho preso un ochiletto La pressione che è un po' bassina Non già sapevo come è sempre stata E poi però va tutto bene La bimba che lei perfetta Perfetta forma Sta crescendo bene Ha preso un po' le misure Adesso fa una stima Non mi dice il peso La lunghezza precisa Comunque il peso è fra gli 850 E il 960 Più o meno Però vabbè adesso Sarà ricresciuta del lato Perché è già passata Quasi una settimana Tra un po' Ehm La lunghezza Non me l'ha detto Però ha guardato La lunghezza E il femore E mi ha detto Che ha un bel femore Praticamente rientra Nella fascia più alta Quindi credo che Nascerà bella lunghezza E che le tutine Era 50 cm Mi sa che non gli andranno Però Non lo so Bisogna vedere Però da quello che dice Rientra appunto Nella fascia più alta Io ho detto Non ha preso dalla mamma Allora Vabbè Staremo a vedere Poi ha fatto L'ecografia E mi ha fatto morire da ridere Perché è una posizione assurda Praticamente Aveva i piedini Sopra Quassù È elastica Praticamente Sarà una fruttura Ginnasta Come dicevo E Mi ha fatto morire Troppo buffa E Se mi ricordo Mi lascio una Una fotina Adesso vedo E comunque sia Sì Stanno andando tutto Tutto bene Adesso devo fare Il Vabbè Il solito prelievo Del sangue Per la toxo Nella settimana Tra l'altro Di ferragosto Vabbè Che è tanto Un parlo da nessuna parte Comunque sia In quella settimana lì Taxoplasmosi È un'altra cosa Sempre il sangue E poi Devo fare Ho preso l'appuntamento Per fare Il vaccino Della pertosse Che sinceramente Non volevo fare E poi Non so Non ti ho ripensato E penso proprio Che lo farò Fatemi sapere Se voi l'avete fatto Stavo controllando Che ho parlato La bellezza Già di sette minuti Però ragazzi È più di una settimana Che non vloggo E quindi avevo voglia Di fare quattro chiacchiere E aggiornarvi un po' Comunque sono Ricordi che rimangono Anche a me Quindi sono Sono belli A parte questo Cos'altro Ieri siamo andati Da Chè Con i miei genitori Perché Volevano Prenderci Una farci regalo Una prenderci Cioè Che noi Alla bimba Il fasciatoio Il lettino E cassettiera In realtà Io il lettino Avrei aspettato Perché Noi abbiamo La pulla Next to me Che ci ha regalato La mamma di Andrea Quindi inizialmente Sfrutterà quella Se ci starà Perché anche lei È tutto un punto interrogativo E quindi il lettino Si è detto Magari lo prendi Ovviamente Poi ieri siamo arrivati Da Ikea La cassettiera Non c'era E quindi Niente Abbiamo preso Il fasciatoio E il lettino La cassettiera Quella arriverà Un po' più avanti Fra una settimana Però sinceramente Non so se ordinarla E farcela arrivare A casa Oppure riandare Perché veramente È stato un ammattimento Andare là Perché non è proprio Vicina Vicinissima Ikea qui Il caldo Non ce la faccio più Dentro ci stava Una favola Un'aria condizionata Ma è proprio Il tratto Casa Ikea Che mi ha un po' Destabilizzato Comunque vabbè Abbiamo preso Abbiamo scelto Il fasciatoio Galliver Gulliver Gulliver Non mi ricordo Bianco E poi Per il lettino C'era lo stesso Modello Sempre Gulliver Però non Convinceva più di tanto Quindi abbiamo scelto Non mi ricordo Abbiamo preso il busto Abbiamo preso il sunvic Che anche questo c'era il bianco Come volevo inizialmente Perché volevo fare tutto bianco Il fasciatoio Che il lettino Che la cassettiera Cassettiera vogliamo Quella della M.N.S Poi Andrea In esposizione Stava girottolando E ha visto Che il lettino C'era grigio Quindi dato che io Proprio non è che Sono un amante Del tutto Bianco Anzi Proprio non è che Mi piace tanto Però Insomma Le cosine Fra di loro Erano Carine Ci dicevano Quindi Avevo optato Tutto per il bianco Poi non sapevo del grigio Abbiamo visto il grigio E allora Per spezzare un attimino Abbiamo scelto Quel colore E il modello L'appunto È il sunbit Poi Abbiamo preso altre Sciocchezzuole Tipo Questo qua Della Scub Scub Praticamente Un set Con Sei Contenitori Che Molitualmente Metterò Nella Cassettiera Per fare un po' Di ordine O sotto Il fasciatoio Non lo so Però In talmente L'avevo presi Per la cassettiera Questi L'ho pagato Su 4,50 5 euro Poi ho preso Un altro Scatolone Contenitori Questo qua Parkla Che avevo già Pagato solamente 2 euro Io questo Non è di quelli Morbido Ma è strafomodo Poi per 2 euro Io Attualmente Ce lo sto usando Per Riporre le copertine Invernali Queste cose qua Poi Poi ho preso Poi ho preso Questo test Qua di Qua come dice Di Lavette Sono asciugamani Piccolini Ce ne sono all'interno 10 Si chiamano Chiamano Questi sono Abbastanza famosi Da Ikea E questi L'ho pensato Per la bimba Per fanno Ai faccio Il bagnetto Il cambio Pannolino Che gli devo asciugare Il culetto Questi qua Sono piccolini Sono comodi Secondo me Per Per lei E Quindi niente Ho preso Questi 4 euro 50 Poi Questo qua Che non è Il massimo Non è Bellissimo C'era solo Di questo colore Da mettere Per le posate Alla cucina Con la lava Nuova Noi abbiamo Il cassetto Molto piccolo E tutto stretto E quindi Ci stava Questa misura qua L'abbiamo preso Poi Ah Vabbè Aspettate che Lo prendo Ah comunque Questa è la pancia Ma sono entrata Nel settimo mese Ragazzuole Questa è la pancia Ho preso Il solito Faccio I tovalini Da 100 Bianchi Semplici Classici Presente mia mamma Perché anche mia mamma Ha fatto un po' di shopping Ieri E poi Ho preso Queste Priscine qua Che avevamo C'ha preso Un po' di tempo fa Che sono buonissime A noi piacciono Tra l'altro L'ha aperta E stamani Per farsi colazione E sono Queste Priscine qua La cannella Che riparano Un po' Il cinnamon roll Sono veramente Buone Perché Gli piace La cannella Soprattutto Quindi Abbiamo preso Anche queste Vedete che Si basta Non ho preso Quindi avete visto Giusto due Cosine Però le cose Più succose Sono appunto Per la cameretta Che non ve lo l'ora Lì Che arriva anche La cassetterà Per sistemare Un po' Il tutto E fare un po' Di nuovo ordine Perché nella camera Rai su C'è un po' Di casotto Adesso Comunque ragazzi È una settimana Ormai che sono Fissa su Rai 2 A guardare Le olimpiadi Non che io Sia una sportiva Anzi Proprio Il contrario Però Mi piace molto Guardarle E quindi Sì Ormai C'è Il televisore Che è fisso Su Rai 2 Poi ragazze Perché a me Le cose Mi vengono In mente Dopo E no Perché ci sono Un po' Di cose Che sono Successi In questi giorni Abbiamo preso Il trio Siamo tornati Da Bimbo Store Tra l'altro Abbiamo Preso quello Giordani Che vi avevo detto E quando siamo andati Noi c'era Praticamente Offerta Sull'offerta Quindi abbiamo Pagato ancora In meno Di quando L'avevamo visto L'ultima volta E l'unica cosa Non c'era Il colore Che avevamo visto Noi Che era Sul grigio Quasi jeans Perché era Quello Il modello Del 2020 E' uscita La collezione Quella 2021 Non lo fanno Più Non era più disponibile Quindi l'abbiamo preso Sul Sul beige Con un po' Di Di fantasie Geometriche Carino Poi comunque Lo vedrete Sicuramente L'abbiamo lasciato In negozi Perché era già disponibile Lo potevamo già prendere Ma Abbiamo aspettato Tanto voglio di tempo Ce n'è Loro ci hanno detto Guardate Non c'è problema Non potete venire A prendere anche a ottobre Quindi Lo prenderemo Più avanti Poi sempre Settimana scorsa Con mia mamma Siamo andate in centro In un negozio Che Ha delle cose Bellissime Per bambini Per neonati Un po' caro Però le cose davvero Bellissime E mia mamma Innamorata In quel negozio Quindi siamo andate insieme E ha preso Mi ha preso Due Due Tutine Per Per la bimba Adesso vi faccio vedere Allora Il negozio è questo Si chiama Lucignolo Però Il negozio si trova Solo qua da me In Versilia Ho preso Uno spezzato E Una tutina intera Il colore È praticamente L'ho preso uguale Tutte e due uguali Per chi adoro Questo colore Allora La tutina intera Che molto Probabilmente Anzi sono sicura Porterebbe in ospedale Per il cambio Uscita È questa Guardate com'è tenera Questa Comunque La marca è Cocodè Firenze Allora È Panna Color panna E qua mi dici Color biscotto Taglia un mese Che corrisponde A 54 cm Ma guardate com'è Troppo bella C'ha il suo collettino Così E poi c'è Un coniglietto Un orsetto E un gattino Maniche lunghe In ciniglia Quindi siccome la prima Nascerà a fine ottobre Magari fuori È frescolino E la ciniglia Ci sta E appunto L'avevo pensata Per Per l'uscita E dietro a tutti I bottoncini Qua Così E Si apre tutta Troppo bella Mentre Mentre L'ho spezzato Ripeto Il colore È praticamente identico Non è a righe È in tinta unita Però È panna È color biscotto Anche questo Ha ripreso Un mese 54 cm Guardate come Sembra che abbia Le pretelline Ma in realtà Sono finte Maniche lunghe Sempre in ciniglia Sempre il collettino Coricamata Un orsetto Non lo so E poi Ci sono le sue ghettine Semplici Così Tinta unita Che riprendono Il colore Così Biscotto Quale qua Bellissimo Questo Anche questo Sinceramente Volevo portare Nell'ospedale Che è troppo bello Il canzettino Di oggi Veloce Leggero Fresco Uova Sode Pomodorini E pane Questo qua È quello Con farina di segale Che ho preso Da Everspin Allora Ragazze Sì Pernate la faccia Ma mi sto Per addormentare Sono le 5 Un quarto Sono passate un po' di ore Dall'ultima volta Che ci siamo sentite E In questi giorni Non so se è il caldo Boh Ma ho un sonno Allucinante Va bene E infatti oggi Giornata casalinga Non avevo voglia Sinceramente Di uscire Con Con questo caldo E Anche perché Andrea oggi Doveva andare A casa È andato La casa Di mio nonno A finire Sistemare A finire Insomma A continuare Sistemare La cucina Perché ci siamo Fermati Praticamente Questa settimana Non siamo Riusciti A andare avanti Con il montaggio La cucina Perché vabbè Andrea lavorava E Poi serviva Una mano Quindi infatti Oggi sono venuti Il suo abbo Il suo fratello A dargli Un aiuto E Oggi continuano Doveva andare Anch'io Poi ho detto No Vai Andate voi Tanto voglio dire Io che ci faccio Non faccio niente Quindi Pensateci voi E Una cosa Che Mi sembrava Già di avervela Detta Comunque Ve la ridico Perché ho letto Un commento Sotto il video Di pulizie Perché Pensava Una ragazza Diceva che Pensava che Eravamo già A casa nuova A casa la di mio nonno Invece no Andremo I primi settembre Mi sembrava già Che ve l'avevo detto Ma non ricordo Sinceramente Comunque sì Andremo per i primi settembre Prima non Non riusciamo Anche perché poi Ne approfittiamo Che l'ultima settimana Di agosto Andrà in ferie Quindi faremo Il traslogo E Poi tanto appunto C'è sempre la fine Di sistemare la cucina Altre cose E quindi Prima non Non riusciamo Allora Questa sera Siccome è sabato E sabato è pizza Volevo fare In casca tutto Questa qua Che vi avevo fatto vedere Il video su A taspesa Di S lunga Questa pasta Per pizza Già bella e pronta Nell'S lunga appunto Che sinceramente Io non ho mai provato Ma penso anche a Andrea Mi sembra anche lui Non l'ha mai provata Questa qua Già stesa E pronta all'uso Ma in generale Non l'ho mai presa Fatta così Per la pizza Di solito O fa l'impasto a Andrea Se la facciamo a casa Oppure prendiamo Pizzeria O sul gelato Ma così È la prima volta E quindi Niente Era un'offerta Ne abbiamo presa Due confezioni E adesso Vabbè Io ora faccio Preparo già Il pomodoro Poi qua Dice Che Vabbè Ora si vede male Aspettate Magari la apro Allora Praticamente Bisogna togliere La pasta Dal frigorifero E lasciarla A temperatura Ambiata Per circa 20 minuti Nel frattempo Per riscaldare Il forno 180 gradi Strotolare La pasta Per la pizza Mettendola Direttamente In una teglia Con la carta In cui è avvolta Guarnire Con il pomodoro Una mozzarella Poi va bene Magari Ci aggiungiamo Anche un po' Di prosciutto Cotto O stracchino Adesso vediamo Qua c'è il forno Per circa 10-15 minuti Fino a quella Mozzarella Fonde O comunque Secondo il proprio gusto Con questo Ci si può fare La pizza Ma anche I panzerotti E stuzzichini Vediamo Un po' Com'è Dopo vi faccio sapere Buongiorno ragazzi Oggi è il mattino Dopo Ieri sera Poi alla fine Non vi ho salutato Quindi lo faccio adesso Comunque la pizza Devo dire Quella che avete visto Ieri sera Dell'essi lunga Non è male Cioè Non è chissà cosa Però diciamo Che per essere Una pizza Una base per pizza Già Già pronta Non è male Per fare la pizza Veloce 10-15 minuti Ci sta Dai Comunque Allora Vi saluto qua Spero che vi sia piaciuto Questo vlog Iscrivetevi Se ancora non l'avete fatto Noi ci vediamo presto Ciao